Il GAP Semester è una nuova opportunità di mobilità che offriamo ai nostri studenti nell'ambito dell'Alleanza EDUC a fianco alla classica mobilità Erasmus. La differenza del GAP Semester è che gli studenti non devono scegliere corsi e insegnamenti da fare all'estero relativi al loro percorso di studi, ma possono scegliere insegnamenti che sono anche di materie completamente differenti che sono di loro interesse per arricchire il loro curriculum e le loro competenze anche trasversali. Le sedi disponibili sono le sedi dell'Alleanza EDUC, in particolare per il prossimo bando, sono disponibili le sedi francesi di Paris-Mainterre e Rennes, la sede di Masaric in Repubblica Sheca, la sede di Pec in Ungheria e la sede di Jaume Primero in Spagna. Quest'opportunità è analoga a quella che offrono diverse università straniere con i cosiddetti major e minor, in cui il minor è appunto un percorso collaterale di più breve durata che riguarda delle materie differenti da quelle del major che è il percorso principale. Questa esperienza offre ovviamente tutti gli stessi vantaggi che offre anche l'esperienza internazionale Erasmus, cioè quelli di approfondire la conoscenza di almeno un'altra lingua straniera, quella di conoscere culture diverse, modalità di studio differenti spesso da quelle che adottiamo a Cagliari in Italia e comunque confrontarsi appunto con la vita in un altro paese e quindi crescere sia personalmente che culturalmente.